Gianluca Zambrotta, prima di tutto benvenuto a Chiasso. Grazie, grazie a tutti, grazie ai tifosi del Chiasso. C'è qualcosa che ti senti di promettere ai tifosi del Chiasso? Sicuramente aspettano tantissimo da te. Io spero comunque di ricambiare la fiducia di tutti i tifosi del Chiasso. Non posso promettere niente perché quelle premesse vanno mantenute, quindi è un po' difficile in questo momento, perché giocherò nel migliore di modi di mettermi a disposizione dell'allenatore e di compagno. Cercheremo di dare il massimo in ogni allenamento e nella partita. Hai detto nella conferenza stampa che ti senti più giocatore che allenatore? Sicuramente sì, io parto come giocatore, mi metterò a disposizione di allenatore e comunque cercherò di dare una mano anche ai ragazzi, a tutti i giocatori e se avrà bisogno anche allenatore. Hai visto Chiasso nella prima sfida? Ti sei già fatto un'idea un po' di come stanno giocando, come vanno? Io già li conoscivo, ma la prima partita è sempre un po' così, quindi avremo modo da qui in avanti di poter guardare più nel specifico pubblico del Vettore e i ragazzi. La curiosità, quello che andrei a fare è il primo allenamento con loro oppure vi siete già visti? No, no, oggi poi sarà comunque la prima scammata, conoscerò comunque tutti i ragazzi e poi da domani andremo avanti a 360 gradi. Qualcosa di Aido? Sicuramente saranno entusiasti di averti come compagno? Ah, già li conosco, quindi li hanno conosciuti e mi metterò a disposizione di loro e loro saranno sempre a disposizione di andarmi una mano a te loro sicuramente. Perfetto, ben arrivato di nuovo in Bucallupo. Grazie, grazie a tutti, ciao.